Ricontrollando la playlist ho notato di aver saltato pari pari la lezione sulla struttura di controllo più importante che potrete mai trovare in ogni linguaggio di programmazione ovvero la struttura IF-ELSE. In questo video quindi faremo un piccolo passo indietro e introdurremo queste due importantissime istruzioni condizionali. Buona visione! Vi ho preparato un piccolo diagramma di flusso per mostrarvi con più chiarezza cosa accade all'interno di una struttura condizionale IF-ELSE. Come vedete il tutto incomincia con il nostro punto di entrata. Il punto di entrata è il punto che precede l'istruzione condizionale IF. Quindi supponiamo che precedentemente abbiamo istanziato la variabile età a cui abbiamo assegnato il valore 19. Dopodiché si arriva al punto di entrata e troviamo la nostra istruzione condizionale IF che esegue il controllo su questa condizione ovvero se età è inferiore di 18. L'espressione viene poi calcolata e viene restituito TRUE o FALSE. se viene restituito TRUE si prosegue verso questa direzione e si stampa MINOREN. Se FALSE si prosegue verso questa direzione e si stampa MAGGIONEN. In ogni caso alla fine ci si avvia verso l'uscita della struttura condizionale e si continua l'esecuzione dello script. ma guardiamoci subito un esempio. Nello script ho riproposto pari pari il diagramma di flusso che ho disegnato nel documento. Ho istanziato la variabile età a cui ho assegnato il valore 19. Dopodiché si arriva al nostro punto di entrata. Troviamo l'istruzione condizionale IF che esegue il controllo sulla condizione tra parentesi. Una condizione può essere semplice o composta. In questo caso la condizione è semplice ma in seguito vi farò vedere anche una condizione composta. Se il risultato del calcolo della condizione è TRUE verrà eseguito il codice che c'è tra parentesi graffe sotto il blocco IF. Altrimenti si va al blocco ELSE e si esegue il codice contenuto all'interno delle parentesi graffe. Guardiamo subito lo script in esecuzione. Come vedete restituisce maggiore N in quanto 19 inferiore di 18 false e stampa maggiore N. Proviamo a cambiare il valore di età. Inseriamo 15. Salviamo. Rieseguiamo il programma. Stavolta invece è minore N in quanto 15 inferiore di 18 true e si esegue questa istruzione qua. Quando invece si ha la necessità di dover effettuare più controlli su una determinata condizione si utilizza l'operatore condizionale SIF. Ho modificato leggermente lo script di prima aggiungendo dei controlli aggiuntivi. Ho creato la variabile età a cui ho segnato il valore 15. Dopodiché si arriva al nostro punto di entrata. Troviamo il nostro operatore condizionale IF che esegue il controllo sulla condizione complessa età inferiore di 18 e età maggiore di 0. Una condizione si dice complessa o composta quando per l'appunto è composta da due o più parti. In questo caso la prima parte è età inferiore di 18 e la seconda parte è età maggiore di 0. Quindi per rispettare questa condizione la variabile età deve avere come valore un numero nell'arco di 1 a 17. Nel caso la condizione venga rispettata e quindi restituisca true si esegue il codice tra parentesi graffe e quindi si avrà in output minorenne. altrimenti se così non fosse si passa al controllo successivo. Ovvero se età è maggiore o uguale di 18 e età è inferiore di 25 quindi età deve trovarsi nell'arco dei 18 a 24 restituisce in output maggiore n. Se anche così non fosse, controllo successivo se età è maggiore o uguale a 25 e età è inferiore a 60 quindi nell'arco dei 25 e 59 in output avremo adulto. Se ancora non fosse rispettata la condizione controllo successivo se età è maggiore o uguale a 60 e età è inferiore a 120 quindi nell'arco dei 60 a 119 si avrà in output anziano. In tutti gli altri casi cioè età maggiore di 119 o età è inferiore o uguale a 0 si avrà in output età non valida. Guardiamo subito lo script in esecuzione. minore n di quanto? Età come valore 15 15 è inferiore di 18 e quindi abbiamo minore n. Proviamo a cambiare i valori di età mettiamo 18 maggiore n in quanto età è maggiore o uguale a 18 proviamo a mettere 34 risolviamo lo script abbiamo adulto in quanto si trova in questo intervallo dai 25 a 59 restituirà in output adulto. Proviamo ancora a cambiare mettiamo età 71 risolviamo lo script in output abbiamo anziano in quanto 71 si trova nell'intervallo da 60 a 119 proviamo a mettere un'età che non sta né in cielo né in terra proviamo con 1000 chiudiamo un po' cosa succede? Età non valida in quanto è maggiore di 119 e quindi non viene accettato. Stessa cosa se inseriamo un valore negativo se inseriamo meno 21 età non valida ho modificato nuovamente lo script per mostrarvi un esempio di struttura if-else annidata si parla di struttura if-else annidata quando all'interno di una struttura if-else troviamo a sua volta una struttura if-else vediamo l'esempio ho tenuto la variabile età a cui ho segnato il valore 18 poi ho creato la variabile sesso a cui ho segnato la stringa contenente il carattere m abbiamo il nostro punto di ingresso a cui troviamo il nostro operatore if che esegue il controllo scusatemi che esegue il controllo su una condizione semplice età maggiore o uguale di 18 se la condizione viene rispettata come si è detto vengono eseguite le istruzioni tra parentesi graffe tra le sue parentesi graffe cosa troviamo? un'altra struttura if-else infatti di nuovo un altro controllo sulla condizione sesso equal m quindi se il sesso è uguale a m in output avremo maschio maggiore n se invece sesso è uguale a f in output avremo femmina maggiore n altrimenti se scusatemi di nuovo se sesso non è né m né f in output avremo sconosciuto maggiore n in quanto il sesso non viene riconosciuto stessa cosa viene riproposta all'interno delle parentesi graffe del blocco else troviamo un'altra struttura if-else che esegue i soliti controlli che abbiamo visto in precedenza solamente che in questo caso età sarebbe inferiore di 18 quindi avremo a che fare con minorenne in output al posto di maggiore n verrà stampato minorenne guardiamo lo script in azione in output abbiamo maschio maggiore n in quanto età è 18 quindi la condizione viene rispettata si passa al primo controllo if sesso sesso equal m sesso è uguale a m in output abbiamo maschio maggiore n proviamo a cambiare valore di sesso mettiamo f salviamo rieseggiungiamo lo script femmina maggiore n quanto if età maggiore o uguale a 18 ok viene rispettato if sesso equal m falso quindi si passa al controllo successivo sesso equal f true e viene eseguito 6 femmina maggiore n proviamo a cambiare di nuovo il valore di sesso mettiamoci gli s rieseguiamo lo script sconosciuto maggiore n in quanto scusatemi if età maggiore o uguale a 18 ok true primo controllo sesso equal m false allora sesso equal f false allora non avendo rispettato alcun caso else sconosciuto maggiore n infatti abbiamo sconosciuto maggiore n proviamo a cambiare il valore di età ok ricominciamo in output abbiamo maschio minore n in quanto if età maggiore o uguale a 18 no è 17 quindi è inferiore false si passa direttamente al blocco else sesso equal m sesso uguale a m true e in output restituisce maschio minore n proviamo a cambiare il valore di sesso anche qua mettiamo f e riproviamoli tutti femmina minore n età maggiore o uguale a 18 false si passa a else sesso è uguale a m no falso allora si passa a else if sesso equal f vero in output abbiamo femmina minore n proviamo a cambiare ancora rieseguiamo lo script sconosciuto minore n età maggiore o uguale a 18 false si passa al blocco else sesso equal m false si passa a sesso equal f false non rispettando alcun caso entra il blocco else in gioco e in output abbiamo sconosciuto minore n bene io direi che giustizia è stata fatta sull'argomento if else e ci vediamo al prossimo video